Cosso del Solari di rigore con fiducia di Metzess al limite dell'aria, lo scatto in avanti da parte di Gernimenezza, cerca di superare Timoschuk, ci riesce, lancia ancora in avanti, supera anche Benichelis, il cross al centro per Borriello, Borriello per il latino, go, 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 go l'iniziativa di Udini, sulla destra si è fatto, si è bevuto almeno un paio di avversari poi frossa al centro verso Borriello che addirittura l'ha scivolato il dono di rigore è riuscito comunque a calciare verso la porta difesa da Kraft e a mettere il pallone alle spalle del portiere tedesco Marco Borriello, Jack Sparrow, gol numero 3 in Champions League per lui scivoleva il gol subito all'inizio secondo tempo, grande l'iniziativa di Ceremia Menez